Siamo in compagnia di Alberto Baccini, sindaco uscente di Porcari, appena riconfermato con una percentuale di voti del 75%. Sì, credo che sia una percentuale assolutamente inaspettata. Io sentivo dentro di me un clima favorevole, questo devo dirlo sinceramente, nel paese. Non pensavo naturalmente che i numeri fossero questi, credo che però più che la conferma di me stesso, questa sia la conferma di una grande autorevolezza di questa comunità. Porcari oggi è un comune diverso dal passato, un comune che ha acquisito una sua forte dimensione politica, istituzionale e anche come modello amministrativo nella provincia di Lucca. Noi abbiamo tariffe basse, abbiamo molta attenzione per le famiglie, siamo riusciti a realizzare molti risultati. Io credo che questo sia stato premiato in maniera particolare dai cittadini, perché tanto poi bisogna sempre portare dei risultati, questo è l'elemento fondamentale. Quindi questo credo che sia il premio a un buon lavoro fatto e credo che naturalmente sia anche una spinta ulteriore, non certo un punto di arrivo ma un punto di partenza verso prospettive nuove. Quindi possiamo dire che in un clima di astenzionismo la buona amministrazione sia la ricetta migliore per portare i cittadini alle urne? Io penso che, a parte che un po' di astenzionismo ci è stato anche a Porcari, ovviamente riflettendo un fenomeno comunque nazionale, è chiaro che noi siamo l'istituzione più vicina ai cittadini e quindi quelli che praticamente rendiamo conto, si può dire, minuto per minuto di ciò che facciamo. C'è un rapporto diverso, quindi la gente naturalmente valuta questo aspetto di vicinanza in maniera diversa. Quindi io sono convinto che se si fosse votato per le politiche questa volta sicuramente avremmo avuto percentuali molto più basse. Invece nel caso appunto del sindaco chiaramente c'è una vicinanza diretta, c'è un rapporto continuo, quotidiano e questo è anche una bella cosa. Fare il sindaco è molto faticoso ma è il mestiere più bello del mondo forse. L'attenzione al tema del lavoro sicuramente vi ha reso i favoriti, vi ha aiutato in questa corsa elettorale? Sì, io penso, l'ho detto, l'ho messo al primo posto del mio programma, adesso lo confermo e dico che io, noi insieme, noi sindaci in modo particolare, in quanto, ripeto, istituzioni più vicine ai cittadini dobbiamo lanciare questo grande patto per il lavoro e mettere insieme delle sinergie, mettere insieme delle iniziative per creare delle opportunità di lavoro per i giovani. Questo è il vero problema, il vero dramma delle famiglie. Io l'ho vissuto, diciamo, sulla mia pelle quotidianamente nei contatti con la gente, la gente mi ha dato questa grande fiducia, sento una grande responsabilità, io devo portare avanti i programmi e le promesse che ho fatto. Il lavoro, il lavoro al primo posto, lavoro, lavoro, lavoro. Un'ultima domanda, anzi più una curiosità, ha avuto modo di incontrare il suo sfidante per ora? Sono arrivato in questo momento, appena finito, diciamo, con voi andrò subito a salutarla, perché fra l'altro, devo dire, è stato molto bravo, molto sobrio, è una persona di qualità, io l'ho detto il primo giorno che ci siamo incontrati, lo conosco bene, è un ragazzo serissimo e avrà probabilmente altre occasioni, ma devo dire che ha fatto una campagna elettorale esemplare, seria, ma non avevo dubbi perché è una persona seria che viene da una famiglia serissima. Vorremmo chiederle, sembra che si stia profilando una grande forza per il centro-sinistra in queste amministrative, Luca, Porcari, che cosa ne pensa? Ci può dare una sua idea? Io penso che al di là del centro-destra e del centro-sinistra io ho fatto una lista civica dove naturalmente la politica dietro c'è sempre, però noi abbiamo pensato soprattutto appunto all'impegno civico verso i cittadini. Io credo che la politica, al di là degli schieramenti che secondo me cominciano ad essere anche un po' obsoleti, io penso che la politica deve riacquisire soprattutto una sua dignità, una sua dimensione diversa. I cittadini sono veramente in condizioni difficili e la politica deve cominciare a dare degli esempi. Allora lasciamo da parte un pochino i colori e pensiamo ai comportamenti, rivalutiamo le persone. Io credo che la politica debba premiare le persone capaci. Oggi non ci si divide più fra destra e sinistra, ci si divide fra chi è capace o non capace di risolvere i problemi.